Eccoci qua, piazza Stesicro Catania, detta anche Catania Vecchia, qui c'è il cosiddetto Colosseo Nero, teatro romano, anfiteatro romano, siamo qui, piazza Stesicro Catania, sembra un po' di confusione, ce l'ho un po' così, però va bene, molto particolare. Allora, dice una scritta, per me, civitas Catanesium, si, si, primatur, a Cristo. Ciao! C'è un po' di acero. Accolera, ciao! C'è che c'è chi c'è tutti? C'è chi c'è chi c'è? C'è chi c'è chi c'è chi c'è? In un po' di acero in Cloud, in un po' di acero, in un po' mi giusto... Molto simile al Colosseo Romano, se fate delle ricerche su Google c'è anche la ricostruzione in 3D di come appunto poteva essere questo Colosseo Nero, nero perché è stata usata la pietra lavica dell'Etna, che è molto nera, c'è un po' di vento facciamo tutto il perimetro, infatti noi inquadriamo tutti i vari palazzi antichi che sono attorno a questo anfiteatro romano, leggenda narra che tantissimi anni fa una scolaresca si perse, una classe si è persa, ma sono leggende metropolitane, questo potete trovare quella lì, sta passando il trenino, ma qui in fondo si intravede il cosiddetto grattacielo, ed eccoci qua la città è sempre attiva H24, è in fase di strutturazione, va bene, va bene così, finiamo il giro, siamo completati il giro, questo è l'anfiteatro romano, che si dà qui in piazza Stesigro Catania, andiamo a completare il giro dove c'è ancora una piazza Stesigro, in parte in cui non c'è questa rete metallica, tanti turisti vengono con la speranza di poter entrare, ma a visitarlo, ma purtroppo ancora in fase di strutturazione, questa è la piazza, stesigro è da qui, vediamo il giro, ok. e vediamo il giro, ok. e vediamo il giro.